Il termine per le borse di studio universitarie è scaduto. Le domande sono state presentate. Puoi visualizzare i risultati nella graduatoria provvisoria. Verifica se riceverai una borsa di studio e a quanto ammonta. Tieni pronta una copia della tua domanda e il codice identificativo. Puoi accedere al servizio online per la richiesta di rettifica, allo stesso modo in cui hai fatto il login per presentare la domanda. Puoi modificare le indicazioni errate o incomplete della domanda durante il periodo indicato. Le indicazioni sul comune di residenza e sul tipo di borsa di studio richiesta non possono essere rettificate. Se sono richiesti degli allegati, caricali. Attenzione! Si può presentare una sola domanda di rettifica. E questo deve essere fatto entro la data di scadenza. Non saranno fatte eccezioni. La graduatoria definitiva sarà stilata sulla base della verifica delle rettifiche. L'obiettivo per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite prevede un'istruzione inclusiva, paritaria e di qualità per tutti. Le borse di studio della provincia autonoma di Bolzano rappresentano un contributo allo sviluppo sostenibile nell'ambito della promozione dell'istruzione. Cogli questa opportunità! L'obiettivo per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e di qualità per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite